Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento uno degli ultimi capolavori, tra l'altro appena usciti da un Kickstarter di successo a dire poco, Batman Gotham City Chronicles a cura della Monolith. Batman Gotham City Chronicles è un Kickstarter di un successo spropositato. Costo, mi sembra, di questo pacchetto che vi faccio vedere, del pacchetto base, più ovviamente comprensivo di tutti gli stretch goals sbloccati, è di 140 dollari, comprese le spese postali in Italia, Kickstarter che ovviamente ragazzi non è più possibile fare perché il gioco, il Kickstarter è finito e il gioco è uscito, ma non vi preoccupate, link in descrizione, trovate un nuovo Kickstarter per la Season 2 che comprenderà la seconda season, più queste due scatole che vedete che ora vi mostro, e più tutti quanti gli stretch goals bloccati che inizierà dai primi di giugno di quest'anno, quindi siete ancora in tempo per avere tutta questa roba, più la roba che verrà. Gotham City Chronicles è un board game ad avventure, a missioni, un po' come, se conoscete i giochi della Monolith, un po' come quello di Conan il Barbaro, per capirci, dove un gruppo, poi li fanno sempre così alla fin fine, dove un gruppo di giocatori faranno gli eroi di Gotham City, quindi Batman, Catwoman, Montoya, Robin e tutti gli altri, mentre un giocatore soltanto guiderà i cattivi, i villain, e ci sono, vi dico soltanto che dentro, ci sono tutte le miniature dell'ambientazione di Gotham City e di Batman, tutte. Ne sono escluso addirittura non soltanto eroi e villain, ma anche i tag, i cattivi, quindi Tug, ci sono tutti quanti le bande dei vari personaggi, dei villain di Gotham City. È un gioco cooperativo, dove un gruppo di giocatori faranno gli eroi di Gotham City, mentre un giocatore solitario, invece, farà la parte del villain, con delle regole speciali che poi vi faremo vedere nel corso del video, e addirittura il gioco è talmente... non è un'espansione questa, il gioco è talmente ricco di miniature, 170 miniature, che hanno dovuto fare due scatole, perché una soltanto non bastava. E in più è già comprensivo di espansioni tipo Arkham Asylum, la Bat Caverna e Castello Wayne, ovviamente Casa Wayne, che fanno ce la metti, addirittura una delle espansioni a 30 dollari, che secondo me le vale tutti, è la Bat Mobile, ragazzi, con le regole per metterla in gioco. Comunque, come vi ho detto, il gioco si divide in due fasi, la prima è una modalità di gioco cooperativa e un giocatore fa il villain, come avete visto un po' in claustrofobia, per farci capire sempre della Monolith, mentre un'altra modalità, però, dovete comprare l'espansione, è una modalità versus, che lo trasforma in un vero e proprio Mordheim, in ambientazione Gotham City, quindi vi dovrete costruire la vostra banda di eroi, la vostra banda di villain e scontrarvi. Passiamo all'unboxing. La confezione del gioco, che ricordo, sono due le confezioni, questa è per gli eroi, mentre l'altra è per i villain. Guardate, tra l'altro, bella grande, perché ho una mano veramente immensa. Il disegno sopra, bellissimo, la scritta sotto di un carattere che ricorda molto il Bat Computer, ci sta davvero, e qui ti fa vedere tutti gli eroi che sono all'interno della scatola. Apriamola. All'interno della scatola c'è, ovviamente, il regolamento, il libro delle missioni, i segnalini potere, i dadi, tanti grossi e colorati, come piacciono a noi, le carte equipaggiamento, in questo caso vedete il Batarang. Colgo un attimino l'occasione, prima di farvi vedere il capolavoro di miniature che ci sono sotto, ragazzi, gli do un voto più alto di uno, e lo vedete alla fine nel verdetto, perché non ci sono token. C'è veramente la monolith ha capito che per fare dei bei board game non servono 300.000 token, e quindi veramente, quando gioco e devo rimettere tutta la roba a posto, mi sento molto sollevato. Andiamo avanti. Schede dei personaggi, tra cui il primo qua su vedete Batman, poi tanto le vedete nel corso di una prima partita di prova, un tutorial, un sunuto delle regole, e da questa parte invece la tabella degli eroi dove voi dovete andare ad incastrare le carte, ma ve lo faccio vedere successivamente. Intanto lo spettacolo degli, in arancione i civili, perché ovviamente a Gotham City ci saranno civili anche da salvare in alcune missioni, e questa qui è tutta la parte del JCPD, del Gotham City Police Department, che vedete ci sono tutte le squadre, poliziotti col manganello, artiglieri, droni, e membri della SWAT, che vedete qua giù in fondo. Tra l'altro miniature di una fattezza, bellissima veramente, un drone della polizia, un'unità di disinnesco bombe, e un agente della SWAT, pesantemente armato. Sotto ovviamente arrivano gli eroi. L'onore del caso e dell'apertura delle danze va a Batcao, Batmucca, Batman, ragazzi guardate che miniature, porca la puttana, scusate per la parolaccia nel video, ma ci sta. Batman in versione Cavaliere Oscuro di Miller, Ah vabbè, paura. Commissario Gordon, Nightwing, Green Arrow, Robin, Batgirl, prima ovviamente che diventasse Oracle. Tra l'altro Oracle è nell'espansione del Castello Wayne, se la volete comprare in sede a rotelle, e immancabile Selina, Catwoman. E ora, l'unboxing della scatola dei Villain, ricordo ragazzi, non è un'espansione, quando ordinate il gioco vi arrivano queste due scatole, perché ovviamente c'è troppa roba e in una non ci starebbe. Comunque guardate, Gotham City, l'Enigmista, guardate bello, Pinguino, Poison Ivy, Clayface, ci sono tutti, Joker, Harley Quinn, Harvey Dent, Two-Face, Bane, Scarecrow, insomma ci sono, e Miser Freeze, che fan ce la metti, ci sono tutti quanti, e il layout, ma pauroso. Apriamo. Prima cosa, durissima, in plastica veramente durissima, la tabella, la board, per i Villain, dove dovranno mettere, vi farò vedere, tutte le carte dei Villain che ci sono in gioco, e più ovviamente tutti gli altri spazi, segnalini per poter mettere i punti azione, e tutte le altre cose. Questa è la board dei Villain. Anche qui, scatola, zeppa, di miniature, che vi faremo vedere più avanti. Vedete questa scheda qui? Ok? Questi sono tutti i token che ci sono nel gioco. Fine. E le schede dei Villain, con tutte quante le caratteristiche segnate. Qui è un disegno che vi fa vedere uno dei Tug, con uno spara-reti, un Tug, della banda di Scarecrow, e tanti altri ancora. Mr. Freeze, Bane, Scarecrow, lo spaventa passeri, l'enigmista, Pinguino, Harley Quinn, e immancabile il Joker. Questo, ragazzi, lo vedrete pitturato come Dio comanda e Poison Ivy. Man Bat, Clayface, Bane in versione incazzato nero, e Killer Croc. Finito l'unboxing, vi faccio vedere un po' come funziona il gioco, vi faccio vedere un sunto, ragazzi, perché tanto, ve lo ricordo ora, ma ve lo ricordo anche a fine video, trovate un velocissimo tutorial sul sito, sulla pagina YouTube e sul sito della Monolith, velocissimo, dove davvero in mezz'ora vi spiegano come giocare. Ragazzi, è il gioco più facile del mondo. Comunque, bene o male, vi do un'infarinatura. Andiamo avanti. Questa è la prima missione del gioco, la città verrà lagata. In questa missione si vede la banda di Bane, già disposta ovviamente nel tabellone della prima missione con tutti gli obiettivi, nell'antica diga di Gotham City. Quindi, l'obiettivo dei villain, dei cattivi che sono qui disposti, sarà quello di far saltare delle testate, vedete, degli esplosivi messi in dei punti tattici, farli esplodere per allagare la diga e fare allagare, ovviamente, Gotham City. Questa è la prima missione del gioco, ce ne sono tipo una quarantina, ragazzi. Questa è la prima per farvi prendere familiarità col gioco ed anche quella alla fin fine è un po' più veloce. Vedete, nella mappa ci sono tutti i tug della banda di Bane, Bane, qua giù, poi vedete ci sono delle testate da far esplodere per i cattivi o sabotare per gli eroi, dei computer, ovviamente per immagazzinare dati e poi ci avranno degli effetti particolari, leggete sempre il libretto della missione, altri token di obiettivo e questa è la parte dei villain. Mentre, nella parte laggiù in fondo, potrete sempre scegliere in ogni missione un set che vi dà una scelta fra tre tipi di gruppi. In questo caso, la scelta numero uno erano René Montoya e Batman, la scelta numero due magari erano Catwoman, Batgirl ed altri. Noi, vabbè, proprio per fare il primo video caratteristico abbiamo scelto di usare René Montoya e Batman. In più, vedete che ci sono due carte qui, una per una flashbang e una laggiù per una minigun, delle carte equipaggiamento che potranno prendere solo gli eroi, quindi queste carte qui non possono assolutamente venire prese dai Villain. Questa è la mappa di gioco, ora vi si fa vedere le altre cose. Questa è la sequenza dei turni, ovviamente ogni partita a 12 turni arrivata in fondo i Villain avranno vinto, quindi gli eroi dovranno risolvere la missione prima dello scadere. Vi ricordo che i Villain sono guidati da un giocatore, però lo scopo del Villain è sempre quello di sabotare i piani dell'eroe, quindi è un gioco comunque sempre in contrapposizione, dove uno o più giocatori potranno usare gli eroi, questa è una partita da tre ad esempio, perché da due o da tre, perché potrete usare un eroe a testa più il terzo giocatore userà i Villain e poi c'è la sequenza dei turni. Ogni volta che eroi prima e Villain successivamente avranno finito la sequenza d'attivazione, avranno finito le azioni, si andrà avanti ovviamente al turno successivo, questa è una cosa molto semplice. Queste sono le schede dei personaggi, nel caso qui ovviamente l'eroe più famoso di Gotham City, questa è la scheda di Batman. Nella scheda ci sono varie caratteristiche con dei numeri, c'è la caratteristica di attacco, quindi corpo a corpo, attacco a distanza, nel caso l'eroe ovviamente ne sia in possesso, Batman con i suoi Batarang lo è, manipolazione, che serve per entrare in contatto con i computer, disinnescare le bombe e cose del genere, azione di forza, quindi questa qui è un'altra cosa importante per interagire con l'ambiente, tipo sfondare un muro oppure prendere anche semplicemente un oggetto e lanciarlo contro un nemico o perché no, contro anche un alleato o che ne so, gli lancio un'arma per fargliela recuperare, valore di difesa, come vedete qua giù, questo è il valore di difesa del vostro eroe con il dado accanto, valore di re-roll, quindi per ritirare dei dadi che hanno fallito e poi la caratteristica di movimento del personaggio, più ci sono questi due valori qui sopra che sono le incumbrance, quindi il gioco vi dice che Batman potrà portare un massimo di peso di 3, ogni oggetto ha dei pesi, ovviamente i Bat Gadget ragazzi non hanno peso perché Batman li può portare tutti, ma non solo lui, anche altri personaggi, anche Batgirl e Robin, però in questo caso perché nel gioco può capitare, il gioco prevede tutto, se Batman trovasse un martello a due mani e volesse utilizzarlo lo potrà fare, però dovrà andare a vedere il peso dell'oggetto perché se no verrà De Malus al movimento. ci sono dei cubetti qua giù in fondo sempre segnati da questo valore Batman inizialmente ha 11 di questi cubetti rossi poteri che dovrete mettere qui perché questa è la colonna dei cubi utilizzabili all'inizio del turno, questa è la colonna della stanchezza di Batman, quindi tutti quanti i cubetti utilizzati andranno a finire qui a fine del turno e questa invece è la tabella delle ferite di Batman. Quando Batman subirà una ferita un cubetto verrà spostato dalla zona esausto alla zona ferita o nel caso nella zona esausto non ce ne sia nemmeno uno verrà preso direttamente dalla zona qua giù in cima il gioco ragazzi è semplicissimo. Allora cosa vi dice il gioco? Il gioco vi dice che Batman ha dei movimenti gratuiti, ok? Ogni eroe se è la prima volta che muove in un turno avrà due movimenti gratuiti, ok? Quindi tutti i personaggi avranno due movimenti gratuiti all'inizio del loro turno che potranno utilizzare senza usare nessun tipo di dado però ogni azione che andrà fatta all'interno del tabellino di gioco di Gotham City porterà ovviamente a usare die cubetti del tipo se Batman decidesse ora di spostarsi potrebbe utilizzare i suoi due movimenti gratuiti e spostarsi ci si può spostare nella mappa vedete ci sono delle zone tratteggiate bianche che vuol dire che ovviamente sono adiacenti con le altre bianche accanto in più ci avete anche linea di visuale mentre invece sono delle zone delimitate arancioni che sono sempre adiacenti ci potete spostare tranquillamente ma non ci avete più la linea di visuale ora poi sul tabellino di gioco vedrete nel regolamento ci sono c'è elencato quanti personaggi ci possono stare all'interno di quella stanza se quella stanza ha visuale e soprattutto se quella stanza ha un tipo di movimento particolare perché in certe stanze magari con relitti macerie mura e cose del genere servirà più di un movimento normale per spostarci sia ad esempio anche a batman per scavalcare un muro se non usa il rampino invece di costargli un movimento gliene potrebbe costare tre comunque sempre tornando alla scheda quando deciderete di fare un'azione avrete ve l'ho detto i due movimenti gratuiti all'inizio se non vi dovessero bastare per muovervi sul tavolo uno potrebbe dire va bene se è che c'è ci sposto un cubettino qua dentro e quindi prendo ancora un movimento gli eroi possono usare tutti i cubetti che hanno qui tutti però ovviamente occhio tenetevene un po' da parte perché ora vi spiego come recuperarli potranno usare tutti i cubetti che vogliono infatti gli eroi di buono hanno che possono fare uno sbotto di azioni fino a che hanno dei cubetti però c'è una limitazione come vedete sulle caratteristiche c'è scritto ci sono vari numeri tipo qui c'è un 3 qui c'è un 3 qui c'è un 3 e qui c'è un 4 quindi vuol dire che batman potrà al massimo al massimo fare mettere tre cubetti nella zona corpo a corpo quindi magari se dovesse andare in corpo a corpo con un nemico mettendoci un cubetto per fare l'attacco batman tirerà un dado rosso lo vedete qui però batman potrebbe dire ok sai che c'è o faccio un solo attacco ok mettendoci comunque un cubetto soltanto oppure potrei potenziare il mio attacco così mettendoci tre cubetti quindi a questo punto non tirerò più un dado rosso ma ne tirerò tre potete mettere tanti cubetti quanto è qui il limite massimo quindi dice batman per quanto è uno dei personaggi più forti in corpo a corpo potrà mettere tre cubetti ricordate le abilità qui che ci sono perché queste abilità qui se lo segnate sul manuale batman essendo un esperto di arti marziali come vedete qui avrà sempre un successo automatico quindi tirate tre dadi e in più fate conto che uno di quelli lì sarà automaticamente un successo quindi batman ha sempre un successo automatico stessa cosa se volesse fare un'azione da distanza un cubettino potere per un dado giallo tre cubettini potere per tre dadi gialli e così per tutte le altre abilità quando batman avrà finito tutte quante le sue azioni quindi non avrà più non solo cubetti però potrebbe dire ok passo il turno a René Montoya all'altro giocatore e poi dopo passo il turno a Villain arriva la fase di recupero che questa è la fase più bellina prendete tutti i cubetti li spostate qua giù in fondo tutti quelli che avete utilizzato per le azioni quindi in questo caso batman è usato più della metà e come vedete qui c'è un simbolino vi ricordate che qui all'inizio vi diceva che batman ha praticamente 11 cubetti potere all'inizio ok il gioco vi dice se deciderete di far riposare batman e quindi nel prossimo turno lui si riposerà ok e non farà nessuna altazione mettete questo cursore così dalla parte della luna e come vedete la freccia punta su 6 quindi vuol dire che nel prossimo turno prenderete 6 cubetti da qui e li riporterete fra quelli utilizzabili se invece volete semplicemente far dare un attimino una riposata a batman ma agendo comunque nel turno successivo la girerete da questa parte e batman ne recupererà soltanto 2 vi ricordo che ogni volta che batman subirà delle ferite dovrete prendere tot cubetti ferita e spostarli nel lato ferite da quell'esausto se invece nell'esausto non ce ne fosse nessuno le andrete a pescare dalla dalla riserva qua su in cima arriva la parte dei villain quindi quando tutte e due tutte e due due o tre a volte sono anche di più gli eroi comunque avranno finito il turno toccherà i villain l'azione la scheda dei villain la tabella dei villain è praticamente la stessa ragazzi a parte qualche regolina in più di quella dei supereroi vedete che ci sono tutte quante le carte dei villain disposte per come la missione ci dice quindi in questo caso sono disposte così perché la missione di distruggere la diga questo ci diceva il numero di cubetti potere che si recuperano il numero di la parte scusate della riserva iniziale dei cubetti ok la parte dei cubetti esausti come hanno gli eroi poi invece qua su in cima ci sono i movimenti dei villain la difesa dei villain e i reroll dei villain quindi vedete niente di strano è lo stesso dell'eroe però praticamente i villain il giocatore che andrà a muovere cattivi ci avrà una figata tutti i tug hanno un punto ferita però ci potrebbe essere qualche tug elite che ha due punti ferita o sicuramente un villain un cattivo come Bane ce ne avrà di più infatti vedete ci hanno tutti un simbolino di uno qua su in cima che sta a identificare che hanno un punto ferita mentre invece Bane nelle sue due forme nella versione normale quella poi incazzato nero ha sei punti ferita questo cosa vuol dire voi in questa colonnina qui andate sul valore di sei mettete un cubetto sul sei e ogni volta che Bane subirà una ferita andrete a scalarla fino a quando arriverete a zero e praticamente il villain il boss di questa missione sarà fuori gioco l'attivazione dei villain è la stessa degli eroi però con una differenza vedete come sono disposte le carte qua giù in fondo ok quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto io potrei dire va bene visto che gli eroi sono in un certo punto del tavolo a me servirà che ne so muovere gli all ok questi qui io dovrei muovere questo personaggio cioè non questo personaggio ovviamente tutti i personaggi sotto questa carta perché in questa missione sono quattro e potrei dire ok voglio muovere questi per muoverli e farli agire ovviamente muovere ed attaccare cosa dovrò fare dovrò dire ok decidere di muovere loro ma a che punto sono della sequenza sono nel terzo punto quindi devo sprecare tre token del potere li metto di qua ricordatevi che dovete sempre spendere un ammontare di questi punti pari al punto dove sono sulla sequenza fatto questo devo prendere gli all rimuoverli dalla sequenza spostare tutte le altre giù di uno e metterli in fondo questo per il fatto che avendoli già utilizzati se li volessi riutilizzare dovrò aspettare prima di muovere gli altri e farli scalare oppure se mi riservissero subito dopo questa volta dovrei spendere otto per muoverli questo ragazzi è fatto per evitare che un giocatore il villain dica vabbè io uso solo Bane e spacco tutto tanto muovo Bane muovo Bane muovo Bane invece no perché Bane ma non a mano che scala ti costa sempre di meno però una volta che l'hai utilizzato ti riva in fondo alla sequenza questo un pochino il zunto con la differenza finale come vi ho detto che a fine del turno del villain lui ne recupera sempre cinque non ha a riposare o non riposarsi lui ne recupera cinque quindi a fine del turno magari prenderà questi cinque e li ributterà da questa parte in più c'ha queste caselle ok c'ha queste caselle ovviamente come tutti come gli eroi con un limite che vedete il limite dice uguale o minore di 4 di 3 o di 4 quindi quando un facciamo conto un all che appena spostato dovesse andare in corpo a corpo con un eroe la scheda di all ci dice che ha un valore di corpo a corpo di 0 perché loro non attaccano in corpo a corpo però ha un valore di di un dado come vedete due dadi uno giallo e un arancione per le azioni range a distanza quindi io potrei dire ok ho spostato ovviamente ho mosso dei suoi movimenti gratuiti all l'ho mosso in giro che sono sempre due alle fine per la mappa sono arrivato a distanza di tiro di batman e vado a provare un attacco quindi dovrò tirare un dado giallo e un dado arancione però io potrei dire a me interesserebbe nel caso che dovessi fallire tiro questi dadi e questi dadi non viene fuori nemmeno un risultato mi potrebbe servire un reroll quindi prendo uno dei cubetti ok lo metto qua giù mi ricordo che l'ho utilizzato ragazzi poi alla fine anche questi andranno sempre negli esausti ho utilizzato un cubetto perché dico va bene il dado giallo ha colpito ma quell'arancione invece ha fallito quindi io voglio ritirare il dado arancione che è quello più forte spreco ovviamente un coso se ne ho disponibili lo metto qua giù e l'all potrà ritirare un'altra volta il dado questo ragazzi è il sunto di tutto 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 il gioco mentre invece per risolvere casi di manipolazione disattivare bombe o tutto ci sono due fasi una manipolazione semplice in cui voi spendete soltanto un cubetto nell'azione e la manipolazione avvenuta il cattivo ha fatto saltare l'obiettivo l'eroe l'ha salvato o se no a seconda della missione ha una manipolazione articolata che vi darà una difficoltà vi dirà tirate 3-4 dadi e dovete fare almeno 2-3 successi vi ricordo se i cattivi fanno esplodere gli obiettivi missione fallita se gli eroi invece vanno a sabotare gli obiettivi missione vinta da parte degli eroi ultima cosa come vedete nella sequenza ok dei villain ci sarà sempre un warning e il villain potrà prendere questo warning quando vorrà dunque in questo caso se lo volesse prendere dovrebbe spendere 3 ok prendere il warning spostarlo in fondo ovviamente come fosse un qualsiasi altro tipo di personaggio in fondo alla sequenza e ci sarà scritto sul manuale che cosa succederà call warning di solito sono sempre eventi che i villain vanno a attivare per mettere bastoni fra le ruote agli eroi ragazzi non c'è bisogno che io vi descriva come funziona il tiro di dadi fate conto che Batman per attaccare un Tug tira un dado giallo e uno rossa a seconda della sua caratteristica ed oggetti che sta portando tira i dadi quello giallo non ha fatto niente quell'arancione ha fatto due successi Batman decide di sprecare un punto per fare un re-roll potrebbe ritirare il giallo e viene un niente di fatto quindi Batman ha fatto due ferite magari il Tug che va a attaccare ha un valore di uno di difesa automatico perché tutti eroi e villain hanno sempre una difesa automatica quindi toglie un successo dei due a Batman però il Tug potrebbe dire ok se metto un re-roll potrei tirare un dado giallo quindi il Tug cosa fa prende va a tirare il suo dado di difesa seconda della caratteristica lo tiro e venendo un altro successo ho levato tutte e due le ferite a Batman quindi il combattimento è finito per differenza che due ferite vengano annullate da due tiri praticamente di difesa ragazzi il gioco è tutto qui è finito di spiegare è il gioco più facile del mondo e poi ovviamente troverete tutorial molto più dettagliati sul sito ufficiale in conclusione ragazzi questo è Gotham City Chronicles è un gioco che uno lo vede e legge in regolamento perché ci sono 50 pagine ve lo giuro quando l'ho aperto ho fatto no cioè è bello per ora devo avere una laurea anche un'altra volta per capire il regolamento invece no sono 50 pagine ma non perché sono tante regole perché vi spiega tutto è più puntiglioso di me vi spiega tutto 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 nel dettaglio e poi ovviamente le ultime 20 pagine sono per tutte le skill e le abilità dei personaggi che quelle dovete conoscere però una volta che avrete preso Batman saprete che Batman in tutte le sue forme magari c'ha il Batarang e il rampino magari Catwoman c'ha la frusta per attirare i nemici e altre cose quindi una volta conosciuto l'eroe è finito il trick ragazzi allora i token sono pochissimi pochissimi e le usa soltanto il villain quindi un punto in più già solo per quello le regole sono facilissime le miniature ragazzi ora queste della Monolith e quella della Kmon sono le più belle mai viste è un gioco 170 miniature ci sono tutti i personaggi di Gotham City ragazzi tutti anche quelli che in si caca nessuno ne fumette qui ce l'hanno messi è un gioco strapieno zeppo di miniature è un gioco facilissimo e come voto finale do 9 su 10 rasenta secondo me la perfezione per un fatto soltanto le mappe sono bellissime ok bellissime fatte bene i disegni sono da paura però sono un po' piatte io ci avrei messo un pochino più di elementi in 3D nella mappa un pochino più all'aero questa no avete capito la porticina per entrare oppure il tavolino o altre cose però va benissimo così oh 9 su 10 ragazzi è praticamente il massimo quindi considerazione finale un gioco da avere assolutamente ragazzi per forza fan della DC e di Batman assolutamente non lo potete più comprare questo perché il kickstarter è finito però vi ricordo che a giugno inizierà il nuovo kickstarter e finanziando quello che avrà una cifra del genere 140-150 euro avrete non solo la seconda stagione con tutti i nuovi missioni i nuovi eroi e cose del genere ma avrete anche le due scatole che avete visto quindi degli eroi e dei villain vi ricordo ragazzi link è in descrizione uno ovviamente per il nuovo kickstarter quindi andatelo a vedere subito immediatamente perché da giugno partirà quindi iniziate a mettere un po' di soldi da parte e secondo il link ufficiale della monolith con le guide per iniziare a giocare perché sembra un gioco complicato ragazzi va sicuro ci sono anche tre regole che non vi ho detto tre di numero poi il gioco è praticamente questo qui trovate tutti i link social in descrizione vi ricordo che su twitch sono tornato a fare live tutte le sere con i videogiochi non board game e io ringrazio ancora una volta la monolith per averci fornito questa copia per la recensione grazie ragazzi grazie ROM veramente siete i numeri uno non vediamo l'ora di recensire altri prodotti della monolith come pantheon e come conan che hanno detto che ci manderanno e ragazzi assolutamente da prendere 9 su 10 vi portate a casa il regalo no di compleanno compleanno pasqua natale onomastico di tutto compratelo assolutamente tutti i link li trovate in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi nei commenti ciao belli alla prossima